Ragazzi guardate in questa slow motion il dettaglio del piede d'appoggio quando vado a fare l'over è parallelo alla linea di guida della palla perché deve permettermi e soprattutto deve facilitarmi la torsione per andare a fare il cambio di direzione vi faccio vedere il momento preciso, guardate come è in linea con la direzione palla perché devo essere facilitato nell'andare a fare la torsione per cambiare direzione la differenza dall'over che normalmente faccio dove il piede guarda verso sinistra in questo caso Grazie 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 Grazie